Minardi, è stato tirato in causa alcuni giorni fa da Cattoi, del Movimento 5 Stelle, su questi versamenti che uno dovrebbe più o meno fare. Cosa si sente di dire? Intanto a Cattoi la prima cosa che mi verrebbe da dire è che il Consiglio regionale non è stato eletto cinque anni fa, ma due anni e mezzo fa. Questo Cattoi credo che dovrebbe saperlo. Poi credo che la buona politica si misuri con i fatti, con le azioni concrete. Io in questi anni mi sono impegnato ad esempio con Camilla Fabri per salvare la sede Saipem di Fano, una sede che qualche anno fa rischiava di perdere 1200 posti di lavoro e che sono stati salvati grazie all'impegno e alla determinazione che io ho messo come Consigliere regionale ma insieme alla parlamentare Camilla Fabri. Oggi la sede Saipem è salva e credo che su questo comunque dovremo continuare a vigilare. L'altro tema che mi ha visto impegnato in prima linea è ad esempio il lavoro sul dragaggio del porto e di qualche giorno fa la conclusione della procedura che ha stralciato l'operazione di dragaggio del porto rispetto a tutti gli altri porti delle Marche. Il Comune di Fano grazie a questo lavoro potrà partire con i lavori nei prossimi giorni. Mi sono impegnato ad esempio anche per completare il lavoro di difesa della costa con la realizzazione delle scogliere. Sono fatti concreti questi che sono il risultato di un lavoro per il proprio territorio. I parlamentari 5 Stelle del territorio cosa hanno fatto per il territorio? Se non ricordo male hanno votato contro anche la legge che si occupa delle celebrazioni del 150esimo di Rossini e quindi un evento importante che non riguarda solo Pesaro ma riguarda l'intera comunità. Io credo che la buona politica sia impegnarsi per il territorio, dare delle risposte ai cittadini, risposte concrete e vorrei ricordare per esempio ai 5 Stelle che hanno votato ad esempio contro la legge che aboliva il finanziamento pubblico dei partiti. Sono tante risorse, tanti milioni di euro che lo Stato non spende più. Oggi la politica si autofinanzia, i 5 Stelle votarono contro. Io credo che i 5 Stelle debbano farsi un esame di coscienza perché vogliono fare sempre gli splendidi, i primi della classe, i più bravi, i più buoni, i migliori di tutti. Poi alla fine abbiamo scoperto che tra di loro ci sono persone che taroccano i bonifici nottetempo. E questo credo che debba essere una riflessione perché credo che anche l'elettorato 5 Stelle farà fatica a votare una persona che si è autodefinita disonesta. Il Consiglio regionale ha inoltre eliminato il finanziamento ai gruppi consigliari con una legge ad iniziativa del Partito Democratico e come ufficio di presidenza abbiamo diminuito tantissimo le spese di gestione del Consiglio regionale tant'è che lo scorso anno a consuntivo abbiamo riportato 1.900.000 euro alla comunità marchigiana.